Pino De Rossi, mister del Real Miami, una partita strana, primo tempo statico di entrambe le squadre, tenevate molto bene il campo, 1-2 rapido da parte del Borgo Rossino avvio, l'avete ripresa, avete anche rischiato di pareggiare alla fine, avete tenuto molto bene il campo questa sera. Eh sì 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 no, hai centrato benissimo la tua cosa, infatti devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo molto rimaneggiati, ricordiamo sempre l'assenza del nostro capitano che purtroppo sarà un po' lunga credo, speriamo di no chiaramente. Ci auguriamo il meglio per lui chiaramente anche noi. Sì i ragazzi hanno fatto il massimo, ok. Purtroppo ci manca sempre un, come si diceva, un soldo per fare una lira, ci manca sempre l'ultimo passaggio perché secondo me ci crediamo poco e quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista ma sono fiducioso per il resto. Anche tatticamente abbiamo visto una squadra più compatta rispetto al solito, ne parlavamo specialmente durante il primo tempo, nella mela campo sugli sviluppi di un calcio d'angolo avversario la squadra è tatticamente perfetta, 1-2-2 in avanti, erano molto compatti al centro campo, spesso e volentieri molti gli scontri di gioco, una squadra che questa sera ha combattuto ha rischiato più di qualche volta di trovare il pari. Sì 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 sì, beh certo è chiaro, poi alla fine diciamo nell'ultimo quarto d'ora sotto 2-1 ovviamente abbiamo cercato di mettere gamba e quindi ovviamente abbiamo cercato di appunto come dici te di cercare di rubare la palla per poter ripartire con le forze fresche. Certo è chiaro che facciamo anche i complimenti diciamo agli avversari che comunque in quel momento hanno diciamo così hanno comunque gestito bene, poi tieni presente appunto che il campo è enorme e quindi noi andiamo un po' in difficoltà su questo tipo di campi perché la condizione fisica è quella che è. Ringraziamo mister De Rossi per l'interverto post gara. Grazie a voi.